A 20 giorni dall'Assemblea Costituente di Chianciano Terme, Europa Verde, movimento politico di recente formazione, ha ospitato a Pesaro l'euro parlamentare Eleonora Evi, accompagnandola in una serie di sopralluoghi per stilare una lista di criticità meritevoli dell'attenzione dei finanziamenti europei. Un focus cominciato dal fiume Foglia e in particolare dalla località Capaci del Lago Penserini. Siamo stati presenti insieme al Presidente del Consorzio di Bonifica della Regione Marche perché vi è un atto da qualche anno, vi è una proposta di convenzione delega da parte del Consorzio di Bonifica al proprietario che è il Comune di Pesaro per tutelare e valorizzare quest'area naturalistica che è il polmone più grande che ha il territorio pesarise. Visita anche al Parco Miralfiore affrontando tematiche spaziate dai disboscamenti al tema dei rifiuti fino all'approvvigionamento idrico. In questo luogo abbiamo incontrato il gruppo dei rappresentanti della rete, chiamiamola così, Pesaro Città Sostenibile per focalizzare l'attenzione su due grandi temi che riguardano la nostra provincia e che sono l'approvvigionamento di acqua e la redazione di questo piano di gestione dei rifiuti che è già carente a livello regionale. Infine, riflessione coordinata fra CISL, Vigili del Fuoco, e il Comitato di Pesaro per le tematiche relative all'amianto. La redazione di un piano a livello locale, quindi regionale, di enti locali appunto sulla situazione dell'amianto nel nostro territorio e anche perché sappiamo che se sollicitate in questo senso sia l'Europa che la Regione può fornire quegli incentivi necessari sia per il pubblico che per il privato per procedere finalmente all'adempimento di questa legge del 1992 che è ben lontana dall'essere e praticamente all'anno zero nei nostri territori. Ho trovato una situazione sicuramente non facile, anzi decisamente piena di criticità dal momento che sono davvero moltissime le problematiche da affrontare. Penso alla questione dell'acqua, la crisi climatica ci sta dicendo che stiamo andando verso una situazione di stress idrico anche maggiore ed è incredibile che non si riescano a mettere in campo delle soluzioni efficaci e soprattutto condivise e soprattutto che guardino finalmente a modelli diversi che non prevedono più di creare profitti su un bene pubblico e un bene prezioso come l'acqua. Stessa cosa riguardo alla gestione dei rifiuti. È impensabile creare e costruire un impianto biodigestore che è sovradimensionato rispetto ai fabbisogni di un territorio quindi evidentemente che andrà a ricevere rifiuti da fuori regione molto probabilmente dal momento che invece abbiamo assolutamente necessità di guardare ad altre soluzioni che peraltro anche in questo caso sembrano poggiarsi ancora una volta su logiche privatistiche. Inoltre anche il tema della salute, in particolare dell'amianto, è sicuramente un tema molto caldo sulla quale la regione Marche ha fatto praticamente nulla in tutti questi anni nonostante delle leggi presenti a livello nazionale. Che fare? Una mappatura non è ancora stata fatta di tutti i siti presenti sul territorio o quantomeno non c'è contezza di dove siano questi siti, soprattutto quelli pubblici. È necessario quindi attivarsi ed utilizzare anche i fondi europei che possono e quindi anche devono essere utilizzati per la rimozione e la bonifica di questi manufatti in amianto. Serve però una programmazione, serve una capacità di visione del problema e di programmazione delle soluzioni. In questo la regione Marche fino ad oggi praticamente ha mosso molto poco.